eccomi eccomi mi sentite mi date un feedback audio video come va come state vedo che siete tanti in attesa che state aspettando questa questa scuola io sono seduto dietro con Enea ciao Anna chiudiamo chiudiamo l'altro audio che è di qua ok ma allora 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 bene bene sistemo la telecamera in attesa che insomma ci siano tutti e apro le slide che ovviamente ho presentato e abbiamo delle slide di presentazione le mettiamo di qua ok mettiamo di qua con il doppio schermo e va di qua e via bene bene sono molto molto contento sono molto molto contento di avervi qua l'attesa peggio dei decreti di conte no dai ragazzi ciao luca ciao ciao a tutti c'è jessica c'è andrea grandi grazie mille di essere qua in questa prima prima lezione il grande gabri ciao a tutti allora 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 questo è un primo esperimento è ora fatemi condividere lo schermo calabria presente allora vediamo dov'è la schermata è questa perfetto ok questa la mettiamo facciamo che sta caricando io metto qua mi sistemo un attimo la webcam e ci siamo so che siete in tanti è veramente bello aver visto tutte queste iscrizioni alla scuola di alla classe di youtube diciamo così e poi vedo che ci siete tanti anche che non sono non sono iscritti e che non hanno ancora un canale proprio alcuni canali però sono sono interessati sono interessati allora mi scarico le slide perché così vi posso mostrare un po tutto il progetto che abbiamo in mente per voi allora facciamo che faccio il il caricamento delle slide me ne scarico intanto aspettiamo vi dico un po i numeri che che ho visto di persone che si sono iscritte a questa classe e che comunque può essere eseguita anche indifferita poi perché è indifferita ad oggi abbiamo 72 72 studenti in classe in classe youtube però spero che il numero il numero cresca insomma allora scarichiamo la presentazione così ve la posso posso condividere lo schermo allora 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 saluti alla sbizzera ok ci siamo ci siamo il pdf mi serve perché ho la connessione di ok pdf dovrebbe essere scaricato così lo apriamo e vi mostro il programma il programma di questa classe di questa prima lezione tra l'altro perché ok presentazione lo metto qua e lo stoppo no non dico perolacce allora quale sarà sarà questo vediamo sì dovrebbe essere questo perfetto questo mi ha lasciato un pdf in presentazione ciao ciao a tutti sto aspettando che insomma ci siamo quasi ci siamo quasi tanto poi è registrata vediamo se ok ok si funziona questo ci siamo e oltre a questo provo a fare anche quest'altra cosa vediamo se si carica questa presentazione sul presentation che la preferisco rispetto al resto si si è caricata così possiamo si preferisco usare questa che è già che è meglio allora se qualcuno è in ritardo entra alla seconda ora esatto esatto stiamo per iniziare con calma che abbiamo bisogno che ci siano tutti se no sei un game changer sì guarda Gianluca insertion siamo tutti così insertion siamo tutti così nel senso che insomma abbiamo abbiamo da fare tante cose e cambiamo sempre le regole del gioco andando a giocare nuovi giochi e nuove e nuove cose questo è un format particolare tra un po' ve ne parlo ciao stefano ok abbiamo anche varie varie domande va bene va bene va bene va bene allora allora direi che possiamo iniziare minuto 5 ci siamo 5 minuti di attesa va bene perché dovevo far arrivare un po' di persone visto che abbiamo una classe questa volta rispetto alle altre alle altre cose e quindi questa classe questa classe di youtube da zero a mille allora vediamo questa cosa qui che è molto importante della quale io vi voglio parlare perché in sostanza è una quello che noi stiamo facendo in questo momento insieme è un esperimento perché si tratta di un esperimento di auto apprendimento collettivo cioè cercheremo di imparare insieme pubblicamente qualcosa perché vi ho fatto aprire la discussione ognuno per i vostri canali sul forum per vari motivi per vari motivi molto importanti è importante usare il forum in questa classe quindi vi consiglio chi già ha aperto la discussione di andare nella propria discussione andate a trovare ve la aprite da da una parte oppure in sostanza cercate di avere un word dove vi segnate gli appunti è una cosa molto importante vi consiglio di usare il forum gt sempre perché qui abbiamo il format a scuola di dove avete dentro youtube da zero a mille le vostre discussioni e chi sta seguendo in differita potrà aprire la propria discussione leggendo prima tutte le regole in rilievo ma il forum ha tante cose quindi se volete imparare qualcosa specifico di youtube ricordatevi che in fondo c'è tutta la l'altra l'altra zona facciamo un saluto anche a guido che abbiamo il piacere di avere con noi poi parleremo anche di guido perché l'idea di questa scuola è che piano piano ci conosceremo cioè piano piano faremo delle live dove ci saremo tutti quindi andremo a conoscere i vari canali oltre a vedere come si fa faremo proprio gruppo questa è la cosa che vorrei che vorrei andare a fare insomma sul forum gt trovate tante persone che vi aiutano e trovate sezioni dedicate questa per esempio youtube stiamo aiutando un sacco di youtuber in questo momento con piccoli problemi ora come usare questa classe come usare questa classe che è molto importante avete la vostra discussione chi non ce l'ha la può aprire anche dopo anche in questo momento quando volete e qui aggiornerete le cose aggiornerete le cose con tre cose importanti secondo me che voi dovreste fare ed è un esercizio da fare tutti perché è molto importante uno gli appunti cioè nel momento in cui io parlo ho necessità poi di leggere cosa voi scrivete cosa voi vi siete presi appunti perché ora vi faccio una lezione la prima lezione introduttiva delle basi teoriche dei canali vincenti su youtube come riuscire a farlo perché vogliamo fare questa cosa e arrivare a mille iscritti ma è importante che prendiate appunti perché questo esperimento che stiamo facendo tra youtube e il forum gt poi è in costruzione lo faremo insieme c'è la prossima lezione non ce l'ho pronta non sappiamo se la terrò io se la terrà un'altra persona se faremo un'intervista se faremo una live collettiva la lezione numero due io non la so quale sarà la saprò solo se vuoi mentre parlo per prendete appunti perché ci renderemo conto di cosa avete bisogno cioè parleremo di tante cose e quindi mi rendo conto se avete preso appunti su una parte o non l'avete presi è importante per costruire le lezioni successive quindi mi raccomando anche se le avete su word poi magari ve le incollate nella vostra discussione è molto importante nel vostro canale nella vostra discussione inoltre oltre alla parte appunti è importante mettere nero su bianco cosa farete cioè non quello che vi interessa e basta ma se ora per esempio scoprite una funzionalità nuova è importante lì scrivere sul forum io voglio fare questo questo e questo per il canale perché è fondamentale capire le azioni concrete che andrete a fare e che risultati portano altrimenti parliamo di niente è molto importante quando si fa formazione mettere in pratica anche solo tre cose che imparate nuove e le mettete in pratica sono molto importanti tra un po' vedremo già un canale che lo ha fatto e già vedremo i risultati incredibile è stato incredibile quindi ve lo voglio mostrare perché è molto bello perché così si ottengono risultati altrimenti è un po' più difficile quindi la cosa importante aprite appunti e poi cercate di fare oltre agli appunti che cosa farete per quelli che sono un po' più avanzati vi consiglio anche sempre nella stessa discussione di mettere gli screenshot di che cosa a che punto siete cioè se ora fate un'azione fate uno screenshot lo caricate di un analytics di quella parte che vi consigliamo di fare di quella cosa particolare lì così rimane traccia rimane traccia di cosa di qual è il punto di partenza per questo vi ho fatto mettere quanti iscritti avete in modo che poi vediamo tra qualche mese tra quello che sarà chi supera i mille perché l'obiettivo è sicuramente di farvi superare i mille iscritti gli appunti li preferisco in ogni nella vostra discussione quindi tu hai la tua discussione motor reporter fallo in un post unico in un post unico metti tutti gli appunti di questa lezione che andrai a prendere quindi queste tre cose appunti che cosa farete di concreto sul canale e chi vuole il tracciamento delle varie cose ora perché si fa tutto questo abbiamo detto per le lezioni ma anche per un altro motivo se voi lo fate se voi lo fate io posso intervenire nella vostra discussione ora noi siamo tantissimi siete più di 70 che hanno preso parte a questa classe sono sicuro che appena insomma si capirà un po l'andazzo saranno in tanti altri a iscriversi quindi sarà difficile per me riuscire a scrivervi a tutti però vi leggo tutti perché è importante per costruire le lezioni ed è importante anche rispondere tra di voi io so ho già visto che c'è questo tipo di interazione per esempio ora è entrato Enrico che già è un po più esperto è già un po più avanti conosce youtube da un po lui potrebbe rispondere sono entrati c'è Franco Versa ci sono tanti che seguono motoreporter anche c'è ci sono tanti che possono dare risposte quindi io vi leggerò tutti è molto importante quindi cercare di fare la vostra discussione di aggiornarla perché io entrerò dandovi consigli poi specifici sul canale cioè cercherò di entrare in modo molto molto specifico no chi ha più di mille iscritti può rimanere per curiosità e può usare la propria discussione perché per esempio potrebbe nascere per alcuni di voi che hanno ho visto che ci sono due tre canali che hanno più di mille iscritti tra mille e diecimila potremmo fare più avanti un'altra classe quindi partecipa continua a scrivere fai tutto quello che vuoi che io poi cercherò di intervenire allora questa è una cosa importante se partecipate se fate i vostri appunti io non solo vi rispondo ma posso creare le prossime lezioni perché mi rendo conto se magari c'è bisogno di una lezione più specifica su quell'altra cosa lì inoltre siccome ho intenzione di coinvolgere persone che sono esperte di qualcosa in modo specifico io potrò andare a dire a questa persona guarda ti vogliamo fare un'intervista facciamo un esempio sulla produzione video su come si crea un buon video questi sono tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano alla classe questi sono i loro appunti leggi cosa dicono queste sono le discussioni di chi ha bisogno di quella cosa lì ti intervisterò quel giorno insieme a loro parliamo di questa cosa quindi sono molto molto importanti poi se qualcuno ha bisogno vi facciamo nel forum la insomma il tutorial su come si fa voi basta che vi salvate le immagini poi vi spiego come si fa magari a fine di questa lezione me lo scrivi la prossima lezione non so quando la faremo perché dipende da noi dipende da come andremo avete bisogno anche di tempo qualcuno avrà bisogno dopo questa lezione di qualche settimana per cercare di sviluppare quello che andremo a fare e quindi vi consiglio di guardare i rilievi perché come ho messo in primo in rilievo la prima lezione metterò anche la seconda e poi su telegram ci saranno tutte le varie notifiche una cosa molto importante quindi pazienza non si imparerà tutto oggi ovviamente altrimenti sarebbe sarebbe una pazzia non è non è fattibile poi ci vuole tempo di applicare quindi per chi la vuole essere indifferita si può usare questa lezione ma si deve usare il forum entriamo in classe entriamo si rispondete pure tra di voi insomma ci sono tante persone che che possono dare un sacco un sacco di di consigli allora entriamo in classe con la lezione questa lezione numero uno di questa classe youtube da zero a mille prevede tre passi chi esplode su youtube oggi perché gli aspetti tecnici e la promozione sono le tre cose molto generiche che andremo a trattare oggi e che vi daranno degli spunti da applicare subito chi esplode oggi uno di tre andiamo a vedere due esempi molto belli di chi è esploso su youtube negli ultimi anni uno è roberto mercadini che conoscerete tutti altrimenti insomma sono sono esplosi e l'altra è costanza polinierdeia che esplosa prima di natale novembre 2019 credo ora qual è una cosa importante perché questi due canali ci insegnano la base di youtube la cosa più importante che c'è di un canale youtube e vi consiglio di guardarli vi consiglio per chi non li conosce poi di andare a farci un giro di andare a farci un giro come però non così a caso andate nel canale fate questo filtro che si chiama ordina per e invece che ordinare per ultimi ordinate per i video più popolari ordinando questi due canali per i video più popolari vi renderete conto che sono i video migliori e da lì è iniziata la loro esplosione vale per tutti e due per tutti e due i canali sia per mercadini mercadini è bravissimo anche costanza è bravissima ma sono due settori diversi e vi renderete conto dei video più popolari perché sono esplosi e visto che sono dei canali che hanno in sé qualcosa di importante che ci insegnano qualcosa di importante che ora vediamo cerchiamo di capire che cos'è sono un esempio insomma un esempio molto molto interessante questa lezione sarà riascoltare riascoltata sempre ve la lascio sul canale allora parliamo di questa cosa che cos'è che hanno in comune se voi chi non li conosce aprite a caso tra i più popolari un video di costanza o un video di roberto vi lasciano entrambi se siete interessati all'argomento vi lasciano entrambi con una sensazione ed è una sensazione molto importante che vi c'è una vocina che vi dice ne voglio guardare un altro voglio guardare un altro video di questo canale perché perché hanno un prodotto video molto molto è fatto bene è fatto veramente bene quindi hanno un video che vuoi rivedere hanno un video che vuoi rivedere e hanno dei video che sono sempre verdi cioè il video quanto fa infinito più uno di costanza è un video che noi potremmo andare a vedere da qui fino a quando non uscirà uno scienziato che non risponderà in modo non lo so a quella domanda il video di roberto mercadini se non c'è qua nello scritto vabbè se la terra è sferica lo puoi rivedere costantemente è un video che vedremo anche tra dieci anni questi due youtuber hanno in sé due caratteristiche molto importanti i video sempre verdi i video sempre verdi sono dei video che in sostanza che tu lo guardi oggi o che tu lo guardi tra sei mesi o che lo guardi tra dieci anni è sempre valido vale sempre cosa che non vale per molti youtuber molti youtuber vanno sulle notizie vanno su tante altre che vanno bene per alcune cose ma non va bene quando tu vuoi quando quando andiamo a vedere quali sono i canali che esplodono i canali che esplodono sono canali di per sé che hanno dei video sempre verdi video che tu puoi andare a guardare costantemente ciao a cristen allora non c'è un trucco per il vostro canale l'unica cosa veramente che ci fa capire esattamente ci dà l'esempio di questi canali estremizzando tutto è che esplode su youtube chi riempie il canale di video che le persone vogliono vedere questa è l'unica vera cosa di tutta youtube almeno in italia per quello che vedo io sono canali pieni pienissimi di video che la gente vuole vedere tutti in fila se le guarda uno dopo l'altro dopo che hai visto un video di costanza o dopo che hai visto un video di roberto ti vai a guardare i prossimi e ti vai a guardare ancora i prossimi cosa che non accade con tutti i canali questo comportamento che noi abbiamo all'interno della piattaforma influenza tutti gli algoritmi di youtube influenza l'algoritmo dei watch time influenza l'algoritmo dei consigliati influenza la home page quindi nel momento in cui voi avete un canale pieno di video una persona parte da un video e chi fa domande e insiste e non ha capito che cosa sta succedendo qua e cerca di distrarre io vi banno dalla chat ve lo dico subito sono poco poco tollerante su questo tipo di video quindi è inutile che mi chiedi in quale nicchia scegliere perché non sarà una risposta oggi non otterrà una risposta oggi la hai sentito dall'inizio qual è la cosa ispanico hai capito qual è la classe è questa se ti sta bene bene altrimenti ti puoi seguire un'altra live ora detto questo è importante guardare questo tipo di comportamento questo tipo di comportamento è interessante perché nel momento in cui voi avete un canale pieno di contenuti che la gente vuole guardare succedono cose infatti noi siamo chi parte da zero su youtube è molto influenzato dal pensare che sia la tecnica a vincere sulla strategia che siano i trucchetti che sia la cosa di marketing quando in realtà è il comportamento esatto come esatto link for universe uguale link for universe è la stessa cosa ti vuoi guardare un video sull'universo ti guardi lì e dici cavolo ne voglio guardare un altro perché succede questo perché si genera un comportamento quindi la cosa importante su youtube è generare un comportamento ora come fate a fare questo cioè come si fa a creare un effetto di questo tipo qua uno degli strumenti più importanti che noi abbiamo per capire questa cosa è la mappa mentale questo è un esempio che ho fatto con un canale che si occupa di viaggi per esempio un canale che si occupa di viaggi e si occupa di viaggi dando consigli a chi è a casa può strutturare il suo canale con una mappa mentale a secondo dei vari temi che va a trattare dei video che potrebbero diventa che potrebbero essere sempre verdi no anche se magari sempre verdi può significare per sempre o anche per tanti anni per esempio se lui fa una mappa mentale di strumenti per viaggiare playlist strumenti per viaggiare fa le migliori applicazioni come creare un itinerario come fare quest'altra cosa qui tu crei un progetto che ha un senso e le persone incominciano a guardare un video dopo l'altro se tu hai la parte su new york puoi fare i migliori pass per new york quanto costa andare a new york quali sono i parchi sono dei video sempre verdi che le persone vanno a guardare quindi un aspetto molto interessante è che tra questi video anche se andate ad aprire il canale di link for universe il canale di costanza o il canale di roberto mercadini hanno un senso tra di loro video anche se magari non vi può sembrare ma hanno un senso fra di loro sono collegati e il comportamento umano influenza poi tutti gli altri come ha fatto costanza a esplodere quando uno dei suoi video è diventato molto popolare che penso che fosse proprio quanto ha fatto quanto fa infinito più uno poi le persone quando guardavano quel video andavano sul canale guardavano un altro video il secondo video e youtube che cos'è che ha fatto ha messo per costanza il video quanto fa infinito più uno in home e il secondo video nei consigliati era il suo secondo più visto quindi questo è molto importante da un punto di vista strategico fare una mappa mentale dei contenuti sempre verdi è una delle prime cose che dovreste fare quindi so che in tanti stanno per aprire un canale ho visto che avete tre iscritti, zero iscritti, molti ne hanno di più però al di là di tutto una cosa importantissima è farvi o una mappa mentale o un excel quello che volete incominciare a mettere su carta il vostro progetto andando a dire io faccio questo primo video, questo secondo video, questo terzo video, questo quarto video è che abbiano un senso magari in più playlist voi potreste dire io faccio un canale sul fitness facciamo questo esempio io faccio un canale sul fitness faccio uno sulla nutrizione una playlist sulla nutrizione e una playlist sugli allenamenti allora mi studio quali sono i contenuti che le persone vorrebbero vedere faccio dei video sempre verdi e mi creo la mia mappa mentale e faccio il mio piano strategico per andare a produrre questi video che poi piano piano andrò ad implementare e la cosa è che sia organizzato bene cioè il vostro canale deve essere organizzato bene questo fast forward non è organizzato benissimo io lo porto sempre come esempio però guardate questo esempio qua le live di fast forward, le interviste di fast forward lo vedete come graficamente, cromaticamente questi video sono organizzati in un certo modo bene ora sono video lunghi però se una persona si rende conto che ha intervisto questi tipi di personaggi e se li guarda in fila che cos'è che accade quando io ho un'organizzazione fatta bene che ho le playlist e la persona si guarda l'intervista di Valentina Vellucci l'intervista di Riccardo Palombo l'intervista di Gabriele Benedetti che YouTube crea tecnicamente le audience e quindi in sostanza mi crea l'audience delle persone che si guardano le interviste di fast forward che cos'è che accade? che se si rende conto che tu che stai guardando un video a caso potresti far parte di questa audience te li mostra, te li suggerisce quindi per voi che fate un'organizzazione del vostro lavoro fare una mappa mentale metterla su un Excel, su una mappa mentale e poi riprodurla tramite le playlist vi facilita il vostro canale deve essere organizzato bene quindi la prima cosa da fare in assoluto per il vostro canale la prima cosa che voi dovreste iniziare a fare in modo proprio è quella di capire quali argomenti trattare in questi argomenti quali sono i video sempre verdi e quindi incominciare a metterveli su carta e poi a produrli per chi di voi vuole avventurarsi in questa cosa e la vuole mettere nella propria discussione e una volta che avete finito la vostra mappa metterla nella vostra discussione del forum GT io vi darò un consiglio poi io vi darò un consiglio sulla vostra mappa mentale e anche sulle chiavi da usare per i video perché tra un po' ci arriviamo c'è un po' ci arriviamo in quella che è la parte più tecnica vi voglio mostrare un esempio che ha fatto Luca spero che... Luca è proprio qua è importante la frequenza ha detto ora tra un po' vi poi rispondo prima di passare alla seconda parte leggo qualche domanda tecnica però voglio dirvi cosa ha fatto Luca Luca è arrivato sul forum come tanti di voi ha aperto la sua discussione e ha detto io ho 74 iscritti a questo, questo, questo ho il canale gli ha risposto Sermatica e gli ha detto guarda perché non intervisti Omero che è uno youtuber Luca lo ha intervistato due chiacchiere con Omero e il suo canale è aumentato di un po' di iscritti ed è un video che comunque è visto rispetto ai suoi ed è un video con un contenuto interessante che farà tutta una serie di cose che tra un po' vi dico perché questo perché Sermatica Fabio gli ha proposto di fare questa cosa ed è perché sta funzionando e perché a lui funzionerà Omero dovrebbe avere più di 1000 iscritti Luca quindi io quello che ti consiglio è di editare un attimo qui il titolo e di fare chiocciola Omero in modo che tu lo possa citare poi entriamo nel dettaglio di questa cosa ora prima di rispondere agli aspetti tecnici vi faccio leggere qualche domanda che mi avete fatto e poi entriamo negli aspetti tecnici rispondo velocemente perché alcune domande sono molto importanti al volo poi entriamo nel tecnico quindi una programmazione non lo so quanto è lungo una programmazione so che almeno tu dovresti avere due o tre rami di questa mappa mentale che già hai in testa boh potrebbe sicuramente più di 10 però non ho idea esattamente di quanto non ho idea però dovreste avere almeno due o tre rami semantici molto importanti la frequenza di pubblicazione è importante dal mio punto di vista dall'esperienza che ho fatto no non è importantissima a meno che non tratti di notizie se tratti di notizie sì altrimenti è molto più importante la qualità per quello che mi riguarda io gli youtuber che guardo è molto più importante la qualità Paolo parla Paolo è un altro youtuber molto bravo parla di 20 ci può stare ecco anche lui dice non la frequenza ma la qualità cosa intendi per audience prima di andare avanti così poi poi ne parliamo allora cosa intendo per audience l'audience è il potenziale che tu puoi raggiungere a differenza di tutti gli altri ambienti sociali non è le persone raggiunte le persone raggiunte ma è immaginano come un cestello di persone che entrano dentro quindi dice Giorgio Taverniti consulenza plotter Anna Magri Cosmano fanno parte di un audience che guardano determinati video e dice questa audience di youtube queste sono persone che guardano questi video chi sono i loro simili e ai loro simili che l'audience potenziale mostra i video questo è il comportamento di youtube se uno ha un po' di video conviene riorganizzarle tutti assolutamente sì se non è stato fatto un buon lavoro omero ha quasi 40.000 iscritti fallo con la chiocciolina nel video perché lo linki ok Ilaria se valgono per un pubblico straniero assolutamente queste considerazioni sono strategiche che valgono per tutti sì questo sì l'ho dato per scontato assolutamente se hai un canale lo stai aprendo dovresti sapere a che cosa è interessato il tuo pubblico altrimenti devi fare un'analisi di mercato sì assolutamente youtube ora in questo momento sta andando più di tutti torniamo alle slide torniamo alle slide no si può linkare se hai almeno 1000 iscritti l'uno ha 40.000 quindi figurati lo può lo può citare torniamo alle slide quali sono gli aspetti tecnici di ottimizzazione che voi dovete andare a considerare allora se voi prendete le fonti di traffico di youtube e le soddividete vi renderete conto anche per chi non è un tecnico che il traffico delle visualizzazioni di video di youtube proviene sostanzialmente o da un pubblico fidelizzato quindi dalla community o dagli algoritmi che sono l'algoritmo del watch time cioè stai generando un tempo molto elevato o dei consigliati o l'algoritmo dei consigliati quindi diciamo che il traffico da youtube che viene in alcune zone viene dalla home di youtube viene dalle notifiche e viene dalle ricerche esterne è regolato è influenzato da tre cose molto interessanti la community e due algoritmi soprattutto ora quando andate a creare il vostro canale youtube dovete sapere che questa io l'ho definita la tv del mondo si basa su tre concetti fondamentali che sono l'audience l'intrattenimento e l'interazione dove l'audience è quello che abbiamo detto prima c'è questo cestello cioè riuscire a far vedere un numero di video importante ad un numero di persone importanti quindi non lo so ci sono tutti una serie di persone che guardano i video youtube dice ok queste persone stanno guardando questi video tutte quelle simili gli mostro questi video perché potrebbero essere interessati l'intrattenimento cioè quanto le persone restano e poi soprattutto l'interazione ora queste cose sono anche cose tecniche cioè queste cose che sto che vi sto citando sono anche cose tecniche cioè l'audience com'è che riuscite ad aumentare la vostra audience riuscite ad aumentare la vostra audience tramite collaborando con altri youtuber come ha fatto Luca con Omero quindi le collaborazioni sono molto importanti e poi le playlist cioè creando le playlist quindi due cose delle quali doveste occuparvi è aumentare il numero di collaborazioni che fate sia sul vostro canale sia sui canali dei vostri delle persone che conoscete e curare bene le playlist avere delle playlist fatte bene che invogliano le persone a guardare tutti i video di quelle playlist poi l'intrattenimento quindi avere sostanzialmente un canale ben curato con tutti i video molto interessanti le schede finali che sono fondamentali per poi dire alle persone che guardano il vostro video cosa altro a guardare e creare dei contenuti che sono ricercati dalle persone mentre l'interazione diventa molto importante aumentare gli iscritti che tra un po' vediamo come si fa far commentare le persone sotto il video interagire farle interagire con i mi piace quindi queste tre cose molto importanti di youtube che sono l'audience l'intrattenimento e l'interazione hanno poi un riferimento tecnico cioè un qualcosa pratico da fare assolutamente quindi nell'audience dovete fare più collaborazioni e avere delle playlist piene di video che le persone vogliono guardare per l'intrattenimento si intende che le persone restano sul canale e guardano più video del vostro canale quindi un canale ben curato le schede finali ben curate i contenuti che siano ricercati per l'interazione far interagire le persone queste sono le cose importanti da andare a fare le schede finali tra un po' lo vediamo cosa sono ora andiamo ad approfondire queste tre cose il canale il video e il progetto allora il canale gli aspetti di comunicazione che vi fanno la differenza è sostanzialmente una buona organizzazione del vostro canale cioè nel momento in cui io l'ho visto nei canali che nella maggior parte dei canali che vi siete che vi siete iscritti al forum ho visto una scarsa organizzazione o addirittura alcuni neanche ci hanno fatto caso non hanno organizzato il canale ma il canale va fatto con tutte le playlist che voi state creando perché abbiamo detto che le playlist sono importanti tecnicamente le playlist che cos'è che fanno? fanno vedere i contenuti migliori che avete visto che voi avete scusate prodotto fanno vedere gli argomenti principali del vostro canale aumentano il tempo di visione e aumentano la possibilità di finire nei video correlati quindi le playlist per voi sono fondamentali le playlist aumentano le possibilità di finire nei video correlati che significa questa frase? significa che se io ho una playlist poi rispondo a tutte le domande se io ho una playlist che ha 4-5 video e ci sono molte persone che le guardano tutti i video quando una persona arriva sul canale fa play sul primo video poi dopo non lo so 30 secondi chiude sapete che succede? che YouTube nella home quando lui torna dopo due giorni gli mostra il video che non ha smesso di guardare o si è arrivato un buon punto gli mostra il video numero 2 questo fa in modo che poi si crea l'audience quindi le playlist diventano molto molto importanti ora ci sono tanti canali che hanno bene organizzato le playlist quindi è importante andare nel vostro canale quando siete nel vostro canale cliccate su personalizza e quando cliccate su personalizza lui vi fa impostare tutte le playlist del canale tutte le cose che non sapete come per esempio DJ Rob non preoccupatevi fatevi tutte le domande fatevi l'elenco di domande e poi o lo mettete sul forum o aprite una discussione sul forum nella parte di YouTube questo perché? perché questo esperimento che noi stiamo facendo mira a farci apprendere tutti insieme quindi non vi preoccupate se qualcosa ora in questo tanto il video lo potete riguardare tutto quello che non vi torna aprite delle discussioni ora DJ Rob mi sta dicendo come si crea la playlist nel canale apri una discussione sul forum nella parte YouTube non nella scuola nella parte YouTube che io ti rispondo ti rispondo tutte le domande che hai se non ti rispondo ora ti rispondo nel forum dopodiché ti puoi riguardare il video avrai molto più chiaro quello che stiamo dicendo questo vale per tutti quindi prima cosa importante è le playlist quindi perché noi organizziamo per comunicare quindi è interessante vedere per esempio sul canale di Fast Forward voi andate in basso vedete le playlist come sono impostate ci sono le interviste ci sono le live ci sono Explora Fast Forward per argomento la SEO YouTube tra un po' vediamo qualche altro video ma la maggior parte dei canali popolari che ci sono su YouTube hanno delle playlist che sono ben impostate poi vediamo qualche esempio gli aspetti tecnici che fanno la differenza invece nel video sono questi e sono molto interessanti che ora andiamo a vedere allora un video da un punto di vista tecnico di ottimizzazione ha tutti questi parametri che sono importanti più sei alla base di questa piramide più è importante allora il watch time è l'aspetto più importante in assoluto cioè l'accumulo quantitativo di secondi non la percentuale ma proprio quanti secondi restano non solo sul canale proprio in quella che viene chiamata la sessione di visione cioè se uno apre una playlist sul vostro canale e si guarda 3-4 video quell'accumulo non vale solo per il primo video ma per tutto il tempo che è rimasto nei vostri video quindi è molto importante poi è importante il titolo è importante la descrizione sono importanti gli hashtag quindi ora vediamo come si crea un buon titolo sono importanti i commenti sono importanti le condivisioni e sono importanti gli incorporamenti cioè quando un altro sito embedda mette sul suo sito sul forum sul blog su un articolo il vostro video è un aspetto interessante facciamo un esempio di un titolo perché ho visto che tanti non sanno come si crea un buon titolo o comunque tanti hanno dei titoli un po' a caso ho visto che alcuni addirittura mettono in tutto il canale sempre la stessa chiave nel titolo addirittura a sinistra che è un errore allora vediamo perché come si crea un buon titolo immaginiamo di voler fare un video su fifa 2019 e devo creare un titolo se io voglio arrivare primo su youtube per la chiave giochi di calcio posso fare un titolo che ha delle caratteristiche più seo oriented un titolo che ha delle caratteristiche più dedicate ai contenuti e un titolo che contiene un po' di emozioni diciamo così quindi se voglio posizionarmi per giochi di calcio un titolo più con caratteristiche seo per quanto sia insomma è giochi di calcio se voglio posizionarmi per questa chiave un titolo sui contenuti di questo video è recensione fifa 2019 un titolo che contiene delle caratteristiche un po' accattivanti è il miglior gioco di calcio di sempre qual è il miglior titolo ovviamente non lo sapremo fino a quando non sarà pubblicato ma una cosa interessante è come crearlo si crea andando a fare un mix di queste tre caratteristiche la caratteristica seo si mette a sinistra quindi perché a sinistra perché più a sinistra sta una parola più è importante io ho visto tanti di voi mettere la stessa chiave a sinistra è sbagliato dovete metterla se avete sempre la stessa chiave alla fine del titolo quindi in questo caso io faccio giochi di calcio due punti la recensione di fifa 2018-2019 il migliore di sempre mixo queste tre cose ora io non sono bravissimo nel creare i titoli mi diverto un sacco però un aspetto interessante da un punto di vista di comunicazione è avere un titolo che contenga queste tre caratteristiche con l'aspetto seo a sinistra nell'aspetto di comunicazione c'è stato anche un video su fast forward gioca un ruolo molto importante la copertina del vostro video perché la copertina è la prima cosa che le persone guardano quindi da un punto di vista mentale quando voi strutturate la comunicazione di un video primo aspetto la copertina secondo aspetto il titolo perché vi dico questo perché nella vecchia youtube c'era un detto che era che la copertina andava a completare le informazioni del titolo invece mentalmente è il contrario la copertina è la prima cosa è il titolo che va a completare le informazioni della copertina quindi è importante catturare l'attenzione in copertina e col titolo confermare e avere la call to action quindi in questo caso bisognerebbe fare una bella copertina con il gioco in primo piano che ha recensione di fifa 2019 appena è uscito la persona viene colpita e poi nel titolo in questo caso ha tutti e tre gli elementi quindi questo è un aspetto importante oppure un altro dipende da cosa e come voglio posizionarmi recensione fifa 2000 cioè in quello di prima giochi di calcio io voglio posizionarmi per la chiave giochi di calcio se io voglio posizionarmi per quella recensione fifa 2018 la metto qua e faccio recensione fifa 2018 due punti scommettiamo che è il miglior gioco di calcio di sempre ora qual è la cosa interessante qua in questo titolo particolare e chi ci riesce è un genio e che sostanzialmente questo titolo è come lo slogan di Costa Crociere la vecchia il vecchio slogan la vacanza che ti manca cioè ha un doppio ha una doppia valenza se tu sei stato già con Costa Crociere è la vacanza che ti manca perché ci vuoi tornare se tu non ci sei mai stato in crociera è la vacanza che ti manca per completare diciamo le tue esperienze questo ha un doppio gioco recensione fifa 2018 scommettiamo che è il miglior gioco di calcio di sempre a chi gioca solo a fifa gli sto dicendo che l'edizione è migliore a chi gioca a pes gli sto dicendo che è meglio di pes quindi ha questa valenza nella comunicazione parlare a più persone è molto molto importante nella prima poi ci fermiamo rispondo alle domande nella descrizione le parole sono importantissime quindi le prime parole che compaiono nella descrizione del vostro video di youtube c'è stato un video che ho fatto un test sono molto molto importanti vi consiglio di creare un format di descrizione che poi voi potete caricare nelle impostazioni predefinite il format che significa una una descrizione che ha una forma sempre uguale le prime righe servono a qualcosa quella centrale serve a qualcos'altro e la parte finale serve a qualcos'altro ancora in modo che le persone che sono affezionate ai vostri video possono aprire la descrizione e ritrovarsi sempre a casa diciamo così e la terza cosa le prime tre righe sono di solito visibili quindi ve le state giocando quindi sono importantissime sempre queste cose quindi importante mi raccomando questa questo aspetto e poi da un punto di vista abbiamo trattato la piramide no? quelle tre zone della piramide si possono usare gli hashtag ovvero nel titolo nella descrizione si possono usare gli hashtag non servono tanto per posizionare un video servono per partecipare insieme agli altri youtuber a iniziative comuni questo è più importante l'hashtag in termini di ottimizzazione serve a poco serve per partecipare a quelle che sono le iniziative comuni della community quindi canale video e poi progetto i tre pilastri della nostra della parte tecnica sono avere un canale organizzarlo per bene per comunicare ora vi rispondo a tutte le domande così togliamo qualche dubbio ottimizzare i video è importante avere un archivio video di ottimizzato e poi il progetto che significa il progetto nel vostro progetto nella vostra mappa che voi vi andrete a fare dei video che volete creare dovete fare dovete considerare contemplare tre tipologie di video secondo me che oggi possono portarvi da zero a mille possono portarvi nel lungo periodo a crescere col canale e sono i video cercati ora Luca che ha fatto l'intervista con Omar io ho visto fa un po' di cose io così per curiosità quando ho visto che fa tracking e roba varia ho usato il suggest di YouTube vedete ho cercato escursioni in montagna Luca DJ Robbs tutti gli altri sappiate una cosa questi suggerimenti Piemonte e Lombardia in qualche modo YouTube mi sta dicendo che questi sono gli argomenti più cercati quindi da un certo punto di vista una tipologia di video che voi potreste fare sempre verdi sono proprio questi Luca quindi andare a studiare i suggest di YouTube tu ti studi la tua mappa mentale ti vedi dici io voglio trattare questi tre argomenti e voglio trattare in questo argomento uno due tre quattro e cinque bene lo metti nel suggest e vedi che cosa esce e provi a costruirti la tua mappa per chi vuole fare un test ve l'ho detto scrivetelo nella vostra discussione io vi aiuto vi do delle indicazioni quindi la prima cosa dovete contemplare i video per la ricerca video che possono essere cercati io ho fatto un video ultimamente su StreamYard per esempio che sta andando tantissimo ho visto che c'era un'enorme richiesta per fare le live con più persone ho usato questo strumento che sto usando ora per fare questa live che mi piace un sacco perché posso mettere in rilievo i commenti lo uso per questo perché per me questa è la cosa più importante e a questo punto con StreamYard ho fatto un video ho trovato la chiave live a 2 l'ho messa e questo video sta avendo tante visualizzazioni tra l'altro ha commentato anche l'account di StreamYard loro stessi mi hanno ringraziato in lingua italiana per il tutorial che ho fatto visto che sta esplodendo in Italia e mi sta portando tanti iscritti al canale quindi questo è un modo i video per la ricerca i suggest che mi chiede Enrico sono personalizzati fino a un certo punto ce ne sono alcuni che sono personalizzati ma non tutti quindi nel momento in cui tu li vedi qua non sono tutti personalizzati quelli che hai cercato tu ti compaiono con un altro colore e li puoi rimuovere questi di solito alcuni sono personalizzati ma la maggior parte no ancora su YouTube non c'è una personalizzazione fortissima dei suggest come c'è su Google ma comunque trovi più usati la seconda tipologia di video che vi serve nella vostra mappa sono le live barra collaborazioni come dicevamo prima si possono mettere le mention per chi ha più di mille iscritti quando collaborate con un YouTuber io ho collaborato con Riccardo Palombo l'ho citato con la chiocciolina e lui nel suo video che mi ha fatto un'intervista ha citato me quindi live collaborazioni sono la seconda tipologia come Luca ha fatto con Omar per esempio molto interessante la terza tipologia di video che dovreste avere è i video che beccano la tendenza ora facciamo un breve ricapitolo di questi tre sono dei video che beccano o l'evento del momento in questo caso io per esempio che cos'è che ho fatto StreamYard è una tendenza del momento è una come fare le live a due su Facebook o su YouTube è una tendenza del momento l'ho beccato ho fatto un video e sono stato bravo oppure gli eventi ricorrenti Halloween Pasqua San Valentino se sono a tema con il nostro canale possono andare bene e quindi posso prevederli e far uscire un video in quel giorno le ricette per esempio fanno uscire la ricetta di Halloween per esempio ricette per San Valentino ricette qua ricette là questi due modi di beccare le tendenze e l'interesse è molto molto importante grazie a chi risponde agli altri nei commenti e poi anche sul forum visto che sta succedendo grazie veramente a tutti perché non ce la farò a gestire tutta la classe quindi Anna grazie mille allora quindi sono questi tre video sono molto importanti ricapitoliamo questi tre tipologie di video i video per la ricerca i video live collaborazioni chiamiamoli così e poi i video che beccano l'interesse e tendenza del momento nella vostra mappa dovreste pensare a questa cosa quando le costruite dovete pensare a questa cosa perché sono dei video che vi possono svoltare a volte vi basta un video per farvi fare una buona un buon salto che poi si trascina tutti gli altri quindi quello di StreamYard in realtà è un video abbastanza singolo nel canale poi ho altri video sulle live che stanno andando molto bene in questo momento quello su OBS eccetera eccetera però è un momento diciamo effimero nel senso che il canale non parla di live però è interessante perché è un pubblico io li faccio sempre da un punto di vista di marketing quindi una volta che avete questa mappa come vi dicevo l'organizzazione guardate Ciraolo che è un altro canale che a me piace un sacco guardate Ciraolo come organizza guardate i suoi video le guide appena aprite il canale di Ciraolo vi fa le guide complete guardate quanto durano le sue guide tantissimo poi A speciale insegnamento a distanza guardate come fa le copertine come sono chiare guardate a quando becca la tendenza cosa succede anche Jessica Redenghieri sta facendo un grandissimo lavoro per esempio poi vai giù OBS playlist guardate Telegram guardate che lavoro che fa lui è molto bravo che lavoro che fa con le copertine i colori no come riesce a mixare queste due cose studiatevelo perché sicuramente è molto molto importante quindi organizzare una volta che voi avete creato la vostra mappa vi siete fatte queste tre tipologie di video video per la ricerca live collaborazioni e che beccano la tendenza è importante nel canale avere questo tipo di organizzazione quindi prima di rispondere alle vostre alle vostre domande di passare alla terza fase come si aumentano gli iscritti i tre pilastri di questa parte di ottimizzazione il canale va organizzato per comunicare va organizzato bene con le playlist e ora e potete capire come farlo i video vanno ottimizzati per l'archivio storico del mondo della tv del mondo e il progetto voi dovete riempire il canale di video che le persone vogliono guardare queste sono tre cose molto importanti che dovete scrivervi da qualche parte e poi farlo passo alle domande prima di passare alla parte finale che è molto veloce risalgo su perché ho visto rispondo a raffica alle domande che avete fatto perché è molto interessante questa parte allora risalgo molto su avete fatto un sacco di domande ok ci sono ok ma youtube come collega un tipo di video ad un altro la cosa più importante non è tecnica ma è di comportamento moto reporter cioè tu devi avere delle playlist e youtube li collega se le persone guardano un video dopo l'altro certo che tu puoi usare un titolo che ha delle parole simili le copertine la descrizione le schede finali dove tu linki i video metterle nelle playlist e questo è un aspetto tecnico che devi fare fallo ma la cosa più importante poi è che le persone guardino questi video quindi mentalmente per questo la mappa è interessante hai voglia che fai la parte tecnica che dici ma sì quel video può essere collegato a quest'altro e fai tutte le robe tecniche poi è importante che venga visto se io ora ti faccio questo esempio ho fatto il video su stream yard ora io potrei fare un altro tutorial come usare stream yard con i commenti ed è un video conseguenziale il primo che ho fatto faccio le cose tecniche ma le persone una volta che finiscono di guardare il primo si guardano anche il secondo perché sono davvero collegati quindi è importante che tu guardi il tuo canale lo organizzi e poi cerchi mentalmente di collegarli quindi prima l'aspetto strategico poi quello tecnico grande Stefano se c'è qualcosa in comune con fast forward assolutamente sì ok le schede finali sono se guardi un video di fast forward vai indietro una settimana ce l'ho su quasi tutte quando vai alla fine del video ti suggerisce altri video da guardare si chiamano schede finali ok questo è a conoscenza Alex collaborare con qualcuno di grande ti porta sicuramente una buona visibilità se lo hai bene io per esempio su fast forward di non ho di grande grande come youtuber che ho citato non ho avuto non ho cioè ho contatti ma non li chiamo così a caso ho portato persone che possono dire qualcosa quindi dipende cosa vuoi fare a me non è che interessa tantissimo quindi se riesci bene tra l'altro sul forum GT in questa scuola piano piano poi farò una live dove ci conosciamo anche potreste collaborare tra di voi guardare chi sta partecipando canali affini e fare collaborazione può essere interessante Andrea allora questo è un aspetto interessante io non l'ho fatto per una questione di crescita forse qualcuno l'ho nascosto sì secondo me assenza nascondere non tanto per la vergogna in sé ma se allora questa è una scelta strategica non è per la vergogna non è perché il video non ti piace è perché se ti rendi conto che eliminando dei video riescono a risaltare meglio i contenuti migliori che hai e youtube li collega questo è il senso visto che tu insomma conosci bene la piattaforma secondo me è quello che ha fatto Polinerdeia secondo me Costanza aveva molti video sul canale a un certo punto si è resa conto di questa cosa non lo so probabilmente ha eliminato secondo me e youtube ha capito ha fatto risaltare i video che sono più importanti potrei dire una cavolata glielo vorrei chiedere ma non la conosco per fare questa per fare questa domanda direttamente spero di conoscerla per poterlo fare perché sono molto curioso però ecco credo che Andrea possa avere senso da un punto di vista strategico per far uscire i video sì si può scegliere l'ordine della playlist nella pagina del canale guardate visto che ve lo mostro al volo questa cosa delle playlist perché potrebbe essere interessante vediamo se pa 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 vediamo se vi mostro il mio canale share screen così ok vado a prendere come si fa andiamo nel canale così vi mostro questa cosa delle playlist che magari ok vediamo se me lo fa a volte mi si blocca stream yard non mi fa mettere ok eccolo lì me l'ha preso youtube giorgio daverniti ok eccolo qua questo come si fa si clicca personalizza canale così lo mostro anche a dj ora ho la connessione lenta perché sto facendo la live una volta che dj robs da qui aggiungi una sezione per spostare le playlist hai questo vedi le freccette che sposti le playlist e scegli l'ordine ok anche nella pagina che delle playlist qui poi hanno fatto un casino da questo punto di vista insomma un po' più complesso andare a vedere tutte le le varie cose che ci sono però si puoi farlo puoi sicuramente fare questo quest'ordine diciamo interessante allora qualche altra domanda rimetto grazie mille rimetto però le slide perché poi mi serviranno ok mi tolgo dalle slide allora no questo non esiste un periodo non io non lo conosco credo di no credo assolutamente che non esista ok queste azioni di far vedere i video iniziati lo fa solo se l'utente è loggato o no no anche se non è loggato se riesce a tracciarlo dopo se pulisce tutto non lo fa ma se non è loggato e rimane in quel browser sì lo mostra ha senso fare playlist di canali altrui se se secondo me sì allora se il lavoro è fatto bene e tu hai una playlist che contiene un tuo video e anche i canali di altri sì perché nel momento in cui le persone guardano un tuo video e poi guardano anche i canali di altri fa parte di tutta l'audience quindi diventa molto importante questo sicuramente è utile ispanico se le stories servono io ho visto delle ho fatto delle prove ho fatto tutta una serie di cose sì le stories servono sto notando che se sono fatte per interagire con le persone davvero non le classiche stories che si c'è questa cosa un po' che si fanno le stories a cavolo ma se si fanno per interagire con le persone secondo me tantissimo tantissimo quindi può essere una buona strategia partire con dei video brevi e poi nel tempo farli anche lunghi sì assolutamente sì pillole brevi e poi lunghi può essere una buona strategia Enea perché perché se tu fai dei video brevi sei fortunato a beccare delle cose interessanti ti posizioni su YouTube e incominci a capire che cosa piace quindi fare delle pillole anche da un minuto e mezzo due minuti e mezzo va benissimo condividere il video su Facebook con l'eme deleterio no assolutamente non è deleterio va bene la chiave a sinistra vale solo per YouTube secondo me vale un po' dappertutto questa cosa Giorgio dovremmo anche cercare troppo alta non si posiziona per una chiave generica a lungo si posiziona per una chiave specifica sì Marco i video possono essere modificati nei titoli dopo assolutamente sì a questo non so rispondere penso che ti ritornerà sicuramente sarà un bug assolutamente lo strumento di YouTube per creare le playlist non è efficace condivido la descrizione non uguale per tutti i video diversa per ogni video il format della descrizione è sempre uguale cioè format significa avere una parte iniziale una parte centrale per esempio se segui fast forward la maggior parte dei video ha parte iniziale dove ti spiego cosa parlo del video parte centrale dove ti metto l'indice di che cosa ho trattato e parte finale dedicata a chi vuole seguire fast forward ok questa l'abbiamo trattata questa pure per quanto riguarda i video in serie conviene mettere parola che metti sempre più variante o al contrario al contrario quando si ottimizzano i video la parola più importante va a sinistra ma se la ripeti in tutti i video non è più la più importante quindi la metti a destra quindi devi invertire questa cosa ok se c'è uno strumento che indica il valore delle ricerche non c'è anche se ci sono non valgono perché i volumi li sa solo YouTube purtroppo di questa cosa non esiste l'unico strumento che ti dà un indice che è affidabile è Google Trends ve lo mostro anche questo perché può essere interessante per molti molti di voi vediamo se questa scheda mi funziona non me la fa vedere va bene non importa vi apro un'altra un'altra finestra vi mostro che cosa fa Google Trends Alemandic allora Google Trends per chi non lo sa ok share screen Google Trends guarda tu vai su Trends scrivi non lo so ricette ti dà il traffico più interessante invece di fare ricerca Google fai ricerca su YouTube e ti dà le chiavi più cercate in fondo per ricette tu hai messo ricette ultimi 12 mesi e tu hai queste che sono in aumento e in crescita quindi tu sai che la pasta come argomento legato alla ricetta è uno di quelli più come argomento più correlati più interessanti le query associate più cercate di ricette sono ricette veloci dolci facili e veloci cucina e ricetta questo è l'unico strumento affidabile se poi quando sei qua ti do un altro consiglio lo rimuovi ricerche su YouTube gli dai la categoria alimenti e bevande ultimi 12 mesi Italia metti ehi metti più cercate e queste sono le chiavi più cercate in alimenti e bevande negli ultimi 12 mesi su YouTube in Italia torta pizza panna sushi ASMR a volte si può sbagliare fatto in casa da Benedetta argomenti ovviamente a volte si può sbagliare ricetta lingua italiana torta pasta la pasta è cercata un sacco pollo panna cioccolato pizza uovo insomma ci siamo capiti questo strumento è molto molto importante ok tolgo la condivisione dello schermo allora andiamo giù sì per le menzioni devi avere 1000 iscritti per essere citato e citati e quando tu li raggiungi assolutamente ti fa la citazione per la live invece tu appena hai aperto il canale fai tutta la verifica del canale quando superi 1000 servono secondo me intorno a 48 ore per essere poi attivato ok grazie sì intendo fare sia live in collaborazione con altri canali o interviste insomma partecipare insieme a fare dei video questo l'abbiamo visto abbiamo quasi terminato quello infatti il video se lo avete eh questo dice sì la tendenza assolutamente sta andando assolutamente sì ok ok vediamo ciraolo non circolo è esploso perché sì è esploso io quando l'ho conosciuto aveva pochissimi iscritti condivido con google trends ok va bene uh quante domande che sono arrivate ce la posso fare un attimo eh no non era questa però va bene non rispondiamo mamma quante ne avete fatte youtube tiene conto anche della qualità del video la qualità del video vale solo se è confermato dal pubblico non non va a vedere luca hd o non hd queste cose qua perché non ha algoritmi che vanno a identificare la qualità in quel senso si sa che è in hd sa che è in 4k ma a parte filtro altero assolutamente no la qualità è data da quanto poi le persone guardano i tuoi video allora grazie mille ci sono eh ho ripreso le domande ma avete fatto un sacco di domande ce la faccio eh allora si si può rifare le copertine se le hai fatte a cavolo rifarle assolutamente si rifai le copertine per la musica Roberto vi dà il consiglio migliore secondo me sì luca titolo e descrizione della playlist lo potete ottimizzare come titolo e descrizione dei video va bene si sceglie con chi collaborare se si è in tema e se si ha la stessa linea valoriale cioè tu io collaboro per esempio con Riccardo Palombo perché abbiamo un audience simile ma perché soprattutto Riccardo mi piace un sacco come persona ho fatto un'intervista a Valentina Vellucci per esempio Valentina non ha neanche un canale YouTube è conosciuta fuori da quest'ambiente qua però è in linea con i nostri valori con quello che mi piace fare e condividere e l'ho intervistata quindi dipende molto da quindi dal tema che tratti e se ti trovi bene ovviamente ok la chiocciola può essere usata in descrizione nel titolo e nella scheda community funziona anche lì nel commento ancora no eh sì Pasquale se hai aperto una discussione sul forum GT oppure ti stai non lo so se l'hai aperta devo guardare il tuo canale quindi io poi passerò sul forum GT a leggere tutto quello che avete scritto appena finiamo poi pubblicate i vostri i vostri appunti eh sì se è fuori è importantissimo il tema raga se è fuori focus io potrei anche intervistare non lo so un personaggio fuori focus ma non serve a poco non è che le persone vengono per guardare lui e non sono interessate al tema quindi grazie per aver fatto questo questo commento ok Giovanni dice sì Polinardelli ha cancellato vedi ho avuto questa sensazione ah ok grande Ruggero Ruggero lo conosco invece allora glielo posso chiedere a lui sì è così su YouTube le persone guardano altre persone perché questo perché le persone si affezionano ai canali quindi è un aspetto sicuramente importante avere la persona poi ci sono canali invece che esplodono come può essere come si chiama Space Valley The Space Valley che ha più persone oppure ci sono canali come Kurghessat tedesco che fa formazione fa educazione che non ha un one man show la maggior parte sono così Antonio ma non tutti per forza sì grazie sì sì è vero questa cosa che vi ho messo fate attenzione ok sono questi due canali che secondo me insomma bene allora ci sono quasi è vera questa cosa assolutamente il 7% sì le stories funzionano anche per le iscrizioni che belli che siete raga questa è bellissima potreste collaborare mi sa che siete a tema allora un video vecchio evergreen potrebbe avere poche views ed esplodere sì assolutamente sì questo è un può succedere può succedere assolutamente sì se faccio una campagna facebook per promuovere il canale youtube no ah non lo so questa non ti so rispondere tecnicamente ti so dire però che se lo fai e funziona va benissimo poi su come arriva su come non arriva insomma è interessante interessante ok allora aspetti fondamentali del canale chiudo qua di Tommaso ciao Tommaso mi sono iscritto credo al tuo canale se no lo devo fare ho visto ho scoperto quando è iscritto sul forum interessante allora la longevità del canale la nicchia in cui ti posizioni e quanto è educata l'audience dipende sì dipende allora allora Tommaso questo dipende dall'argomento che tratti condivido dall'argomento che non vale per tutti ma per molti potrebbe potrebbe valere ora la longevità del canale è vale se tu hai un progetto che dove hai tanti video che possono essere utili questo secondo me fa la differenza secondo me fa la differenza ok no penalizzare un modificare un titolo non penalizzala seo su su youtube se voglio aggiornare o rimontare un video no non lo puoi fare devi fare una nuova pubblicazione l'editor ti consiglia solo ti consente solo di tagliare no tab buddy dipende cosa devi fare io lo uso poco poi ora non lo sto più usando so che hanno fatto le modifiche dovrei usarlo però se riesci a se riesci a usarlo bene può essere sicuramente utile ok Silvia ciao grazie DJ Rob si sei in difficoltà sei uno dei pochi è normale guarda è un argomento molto molto complesso da affrontare sicuramente la cosa che puoi fare è che ti consiglio dopo un po' di tempo di riguardare la live e disegnarti tutto quello che non ti torna è di aprire come ti dicevo delle domande specifiche sul forum io ti aiuto vi di più guardate tutti gli strumenti se voi trovate la cosa per usarli per voi per sapere si possono usare dipende cosa fate io Tobi non ha bisogno di strumenti capite qual è il senso degli strumenti dipende cosa volete fare sicuramente se trovate qualcosa di utile sì ma non si può dare un consiglio unico per gli strumenti esatto ok ci sono dov'è che ho selezionato lui Omar Omar i sottotitoli sono importanti per le persone ancora devo fare dei test ma per l'indicizzazione ancora non l'ho fatto non sono riuscito a farlo però per le persone secondo me sono molto importanti o dei buoni sottotitoli possono possono aprirti anche a più lingue questo è l'aspetto un altro un altro aspetto interessante un canale monotematico e molto verticale ha più vantaggi se il personaggio che porta avanti il canale è un buon intrattenitore secondo me sì ha un vantaggio importante perché è più facile collegare i video tra di loro però ci serve un buon collaboratore ok dammi del tu mi stai scherzando eh sì lo so avete tante domande io vi rispondo allora Leonardo sì il video lo puoi ciao lo puoi riguardare anche dopo lo lascio sul canale fate cosa volete l'importante è partecipare sul forum poi così vi posso aiutare e possiamo fare le prossime lezioni un grande dubbio i tag in generale solo una parola o anche una frase i tag puoi usare anche più parole non è un problema Enrico però ti consiglio di andare sul canale di fast forward e guardare uno degli ultimi video che ho fatto sulle sulle bufale dell'ottimizzazione tu che sei un po' più tecnico te lo consiglio oh ragazzi guardate che ormai i telefonini tirano fuori una qualità impressionante dai più info sulle stories io non sono un appassionato di stories quello che ti posso dire è che secondo me se tu hai una cadenza per esempio di pubblicazione settimanale dei video sul tuo canale puoi usare le stories ogni settimana per dire e dare degli insight cioè cercare di collegare di più la tua community su quello che sta per uscire su quello che vorresti sui feedback parlare al tuo pubblico è la cosa più importante e forza Calabria no no Paloma ci riferiamo alle stories di YouTube YouTube alle stories dove ho messo il telefono dove ho ecco qua guarda te le mostro ok intanto ricevo tutti tutti i messaggi su whatsapp Alessia che mi dice che è bravissima con i titoli ciao Alessia lo so che sei bravissima con i titoli allora le stories sono solo sul telefonino quando tu vai sul telefonino eccole qua vedi te le mostra Paloma e le hanno i canali che hanno superato x mila iscritti e sono molto interessanti perché ti consentono di entrare in contatto con le persone che ti ascoltano e cosa ho notato io perché diceva Gianluigi chi è che lo diceva prima che aumenta gli iscritti perché le mostra a chi ti segue non è iscritto e quindi le persone si ricordano e si iscrivono secondo me è interessante anche YouTube ok ok mamma mia il problema è che quando commentate poi mi va giù tutto ok ci sono quasi ho quasi recuperato ispanico sì non puoi monetizzare se sei per i bambini allora Nico un canale YouTube di podcast appena partito questo bisogna vedere se nel tuo target ascoltano i podcast su YouTube questo non te lo so dire purtroppo quanto è importante bilanciare il peso delle playlist alternanza tra piani di video e news allora questo è interessante dipende dal canale purtroppo sai che non c'è non ho una risposta univoca Francesca se hai la tua discussione nel forum GT se mi metti il tuo caso dopo ti rispondo nei prossimi giorni Luca domenica sono stato invitato a una live con due canali da mille ottomila come ho tenuto l'ospitata allora in questo caso di solito in descrizione si mette il video di chi sta partecipando si mette scusa il link al canale di chi sta partecipando e questo può essere molto interessante poi vi consiglio sempre quando fate una live di fare un piccolo video sul vostro canale dove dite che sarete in live così i vostri utenti arrivano sulla live e i loro utenti poi possono arrivare sul vostro quindi in descrizione mettere il vostro canale e poi soprattutto in in descrizione del vostro canale e sul vostro canale dire che siete in live mi fa piacere questa cosa io questa cosa non la so nel senso che una volta si poi c'è stato un momento in cui YouTube ha tolto questa cosa e io non l'ho più confermata non l'ho più guardata quindi insomma non te lo so dire ancora farò un test ottimo Sebastiano spero che mi sa che sei hai aperto la discussione sul forum GT così vi seguo e prendiamo poi tutte le cose allora il canale è nato per fare una gara sportiva che gestiva adesso la gara non si fa più c'è uno solo video sul web marketing tolgo i video della gara secondo me si Gabriele in questo caso si no secondo me non sei fuori luogo hai bisogno di di recuperare un po' non ti devi scoraggiare hai bisogno di 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 recuperare un po' tutta una serie di termini e poi tra un mese ti riguardi questa lezione e le altre lezioni che faremo non sei fuori luogo è così all'inizio per chi impara e ha questi temi purtroppo è così proprio c'è difficoltà all'inizio non devi non devi scoraggiarti è un momento di apprendimento ora non capirei niente se incominci ad ascoltare 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 incominceranno a tornarti tutta una serie di nozioni e poi piano piano imparerai i termini incomincerai a incasellare le informazioni non ti devi scoraggiare assolutamente ok lo guardo ogni giorno quello delle bufale l'ho visto tre volte ci vuole pazienza assolutamente ok sono stati attivati i video chapters ovvero le vere sezioni del video per capirci quelle numerate finiscono questo non lo so Gianluca quando sono state mi rispondi quando l'attivate io ho 3-4 giorni che non mi informo ah niente i tag io li uso solo per provare così a collegare i video del mio canale tra di loro ok ok grazie Giorgio la diva mappa mentale assolutamente sì questa non la conosco ok come infeliscono gli hashtag sui video questi gli hashtag come dicevo prima si devono usare non per l'ottimizzazione ma se ci sono youtuber che si partecipano alle stesse iniziative devi fare chiocciola ah se Omero ha ha eliminato la possibilità di vedere quanti iscritti ha non lo puoi taggare però in descrizione se fai chiocciola o Omero dovresti vederlo una guida passo a passo allora prova sul canale tutto su youtube che ha tutta una serie di informazioni di base ok ci sono quasi eh sì veniamo da un'altra epoca di internet sì ora ci arriviamo Roberto a questa cosa dj robs tutto su youtube guardati i video che ne ha fatto un po' di robe molto dall'inizio Anna è brava ok se hai una pubblicazione costante sì altrimenti no sì no assolutamente io ho tante cose che non so la mia fortuna guarda gib è stata quella di avere avere non lo so sono sempre circondato da persone che ne sanno più di me questa è la mia fortuna che sia stato quando ho aperto il forum quando con Cosman abbiamo deciso di fare l'azienda sempre persone che ne sanno più di me e questa è la mia fortuna perché ci parlo ogni giorno prendo un sacco di cose sempre sul forum aiuto un sacco di persone è molto sottovalutato il fatto di leggere un forum e di partecipare a un forum per l'apprendimento è molto sottovalutato fare un podcast prendendo live dei video di youtube no sono due canali diversi secondo me Daniele ok ok non riesco a starvi dietro per quanti commenti prima di chiudere sulla sull'ultima parte ok ottimo grazie grandissimo ah lo vedi il tuo canale grande parks and fun va bene recupera non si possono spostare i video da un canale all'altro purtroppo grande sì sì aprite discussioni sul forum nella scuola le aprite sul vostro canale nel forum apritele dove volete partecipate al forum tra l'altro sul forum c'è la sezione anche internet news dove parliamo di tutte le ultime cose che sono successe su internet quindi fa anche cultura sì se puoi hai un appuntamento sì sì allora guarda se tu trovi persone che ti piacciono Noemi fallo fregatene io ho fatto una collaborazione con Rick Duferre quando aveva 200 iscritti al suo canale questa cosa lui la racconta ogni tanto mi dice è stato incredibile ho contattato Giorgio avevo 200 iscritti lui mi ha visto e abbiamo fatto una collaborazione lui dice incredibile sì se ti trovi bene con una persona è a pelle questa cosa si tratta lo stesso tema e si è con la linea valoriale va benissimo ah ok ho capito ah stanno facendo questa modifica bene poi la vado a guardare per fortuna dai grande Ilaria partecipa al forum che ci divertiamo mettimelo sul forum se non riusciamo e voglio provarlo a taggare anch'io poi la pensiamo allo stesso modo Sofia quindi questa classe magari ci può aiutare a collaborare tra di noi e a creare un network non un network di youtuber inteso come è ma un network più insomma di persone vere sì lo so è un casino quella collaborazione per incitare al commento bisogna dirlo ok c'è una domanda per Tommaso ok youtube a caro ripetito all'inizio per poi se non conviene se l'ora di uscita grazie G ok l'ora di uscita vale per l'Italia sei ancora in italiano per l'Italia ok ci siamo ci siamo eh ti devi iscrivere al forum e mettere la tua discussione se vuoi che guardi il tuo canale sì un può un video che nel tempo ottiene visualizzazione a un certo punto può esplodere assolutamente ok sì sì youtube riesce a riconoscere quando un video è duplicato lo sai che non lo so cosa succede non succede niente di particolare credo sai ok si riesce a collaborare a comprensione grandissima ma sì le persone l'altra volta ho scritto su twitter un account una persona molto conosciuta poi perché ve la voglio portare nelle prossime live che ha su twitter 4-500 mila follower che lo seguono e siccome è una persona che si occupa di internet gli ho scritto su twitter e lui mi ha risposto subito ha detto sì sì accetto volentieri grazie quindi a breve un'intervista con lui poi poi ve le annuncio quasi recuperato tutte le domande quasi tutte ciao assolutamente importantissima sì io lascio tutto allora chi vuole cancellare i video vecchi se lo fa perché gli ultimi video risaltano non ne ha 10.000 ne ha il giusto e strategicamente risaltano va bene io li lascio io me ne frego di tutto se guardate fast forward non è proprio proprio il massimo ok no non l'ho sentito questo engagement pod no magari sul forum mi metti qualcosa grazie il video duplicato non te lo fa pubblicare ok io questa questa non me la ricordo ok ci siamo ho recuperato concludiamo allora poi rispondo alle altre domande che arriveranno concludiamo con la parte 3 questa parte 3 l'ultima parte che voglio mostrarvi la promozione veloce qualche cosa di tecnico spero che abbiate preso punti poi rivediamo la cosa 1 allora se state aprendo il canale se l'avete appena aperto c'è un link che voi potete creare che è questo che è youtube.com subscription center slash ad user è il vostro nome utente che voi dovete potete mettere sui social per esempio c'è Angelo che vuole creare il suo canale sul fitness lo apre poi dice sul youtube ho appena aperto il canale sul fitness chi vuole si può iscrivere invece che mettere il link diretto mette questo tipo di link che cosa succede succede questo si diventa nero tutto e c'è il pop up che dice vuoi iscriverti a Giorgio Taverniti iscriviti quindi prima cosa tecnica link al canale seconda cosa tecnica il trailer io ho un trailer per chi non è iscritto al canale che dice non sei iscritto a fast forward se non sei se non sei professionista ok e ti spiego perché dovresti iscriverti quindi link e trailer il trailer è importante queste piccole cose fanno la differenza nel lungo periodo non nel breve ok non nel breve però nel lungo periodo fanno la differenza link e trailer branding youtube.com slash branding ora se ne va il pop up così vi mostro l'url eccolo là si applica un immagine che voi potete caricare e che compare io lo mostro per esempio in tutto il video che gli dico iscriviti iscriviti così la persona se si vuole iscrivere a subito il link in basso le schede finali sono queste sono molto importanti con la possibilità di iscriversi al canale quindi andate a guardare queste cose qua sono importanti link al canale dovete fare e dire agli altri di di iscriversi il trailer che ora vi mostro come si fa il branding quindi la possibilità di avere questa cosa qui e le schede finali poi una cosa importante è dirlo fa la differenza tutto quello che possiamo fare dirlo ora non c'è un modo migliore per dirlo non c'è una posizione migliore per dirlo io per esempio qua l'ho detto all'inizio ma sarebbe sbagliato teoricamente dirlo all'inizio perché tu lo dovresti dire quando sei al momento massimo con Gianluca Abadessa e lui ha aperto una discussione molto bella sul forum GT dove mostrava quando metteva la scheda che cos'è che ha fatto è andato sul suo canale ha visto qual è il tempo medio di visione dice il tempo medio di visione per dei video che hanno una lunghezza tot è di 3 minuti allora lui è andato al minuto 2.50 del video e ha messo le schede lì ed è importante questa cosa però bisogna dirlo e mostrarlo per esempio state facendo un video che dura 7 minuti al minuto 3 potreste dire se questo video ti interessa sappi che nelle prossime settimane ne esce un altro se vuoi iscriviti al canale e continuare con l'argomento oppure se questo video ti interessa metti mi piace per esempio ora che voi state ascoltando la live io avrei potuto dire se questa live vi piace mettete un mi piace me lo fate sapere a che cosa serve l'interazione l'interazione non serve per mostrare i numeri serve perché più una persona interagisce più gli algoritmi di youtube capiscono che ti piace quel canale e poi te lo mostra in home quindi sono queste cose qua ripetiamole e vi mostro il trailer link al canale da avere questo link qua ve lo dovete creare e andarlo a linkare poi trailer del canale branding schede finali e dirlo sono le cose che dovete farlo perché la promozione del vostro video non è solo prima del video ma è anche durante il video durante il video stesso dovete promuovere il vostro canale altrimenti un video vi esplode e in quel video non chiedete di iscriversi al canale vi perdete un sacco di persone dirlo purtroppo fa la differenza perché non siamo abituati quindi chi esplode chi ha video che le persone vogliono guardare gli aspetti tecnici l'organizzazione del vostro canale è importante e durante il video dovete promuovere le vostre cose ora prima di rispondere alle domande e mostrarvi questa cosa mi raccomando queste tre cose gli appunti una volta che le avete presi mettetele nella vostra discussione in modo che io possa leggervi possa rispondervi posso andare a guardare cosa serve nella prossima lezione chi intervistare per voi chi se fare una live con tutti cioè decidere qual è la lezione la lezione numero due che voi potete sapere quando sarà perché nel forum GT in rilievo vi metto l'orario di quando la faremo presumibilmente tra due settimane perché voglio che vi concentriate su creare una mappa la mettiate sul forum e ne parliamo che cosa farete quindi mettere nero su bianco i passi che volete fare sul canale e per chi riesce il tracciamento riuscire a tracciare riuscire a tracciare con gli screenshot che cosa poi vi portano le azioni che fate per sapere questo incremento che avete chi ha più incremento come lo ottiene credo che questo esperimento di autoapprendimento collettivo possa risultare molto molto vincente rispondo alle vostre ultime domande che avete fatto e prima però vi mostro il trailer del canale che vi ho promesso come si fa vi mostro questa cosa vediamo se no questo lo chiudo perché ok vi mostro questa cosa e poi vi rispondo a qualche domanda la mappa mentale è importantissima ok ci siamo eccolo qua ah dal video sono dal vivo ora me lo mette lì vabbè vi mostro lo screen share ok Giorgio Taverniti Giorgio Taverniti questo qua il trailer del canale quando cliccate su personalizza canale vi si apre questa cosa che cos'è che vi dice vi dice per gli iscritti e per i nuovi visitatori per i nuovi visitatori cliccate sulla matitina fate cambia trailer che ora non va e lui vi mette una serie di video oppure qui mettete l'indirizzo del vostro trailer fate salva e compare per i nuovi visitatori qua io ne ho fatto uno per chi è un visitatore e uno anche per gli iscritti perché per dire come si attivano le notifiche ho fatto questi due trailer che possono essere interessanti quindi il vostro trailer come dice Moto Reporter può essere anche un video di presentazione iniziale del vostro canale assolutamente un video di promo del vostro canale salgo su rispondo se ci sono state altre domande ok e poi rispondo tutte le domande spero che questa prima ok lezione vi sia piaciuta ok siamo qua i canali ok ok andavo con Robin sì sì conosco Robin Good da sempre ok 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 top ok sì esatto quello che ho appena mostrato ok ok eh sì è è una scelta è una scelta però è importante è importante dirlo non pensavo ma dire l'opzione l'azione da far fare alle persone su youtube è importante faccio dei test e devo dire mi sono arreso a questa cosa pensavo anch'io come te di no ma mi sono arreso è veramente veramente importante no le schede ci sono nei cellulari non ci sono le annotazioni non funzionano le annotazioni ok io io no io non la farei questa cosa se lo vuoi dividere in tre parti metti nel titolo la parte la parte che stai trattando vediamo se riesco a mostrarti un esempio di questa cosa Daniele ok vediamo ti prendo un esempio così te lo mostro e così tu puoi ok vediamo se me lo mostra ok ci siamo ti mostro ah sto già mostrando lo schermo web marketing festival guarda questo è l'episodio vedi il futuro dell'uomo nei luoghi dell'innovazione episodio 1 2 3 4 i titoli sono tutti diversi con il WMF l'IT per esempio che è tutto avendo qua che è il documentario di questo tipo capito questo è buono te lo volevo mostrare con un esempio che è molto a tema con quello che tu stai facendo ok ecco metti il like like no quando uno mette il like non riceve purtroppo nessuna novità ok sì 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 condivido Simone esatto attivare il notifico è un'altra cosa che io dico per esempio questo è difficile questo è difficile perché sono due ambienti diversi quindi è molto difficile fare questa cosa portare dal video al giornale è veramente è veramente difficile me lo devo studiare non ci ho mai pensato non mi ricordo se sono mille iscritti perché alcune opzioni sono per mille alcuni sono per diecimila qualcuno se lo ricorda quanti iscritti servono per fare le stories che poi lo metto in rilievo ok sì va bene va bene va bene aspetta che termina ok cogle si chiama google c o o g l e vediamo se lo becco subito io lo faccio lì cogle sì no io a volte ho ho dei vuoti di memoria su cc e cogle questo che ti fa fare le mappe mentali ok la monetizzazione di un canale è attiva per chi ha più di mille iscritti e più di 4000 ore la puoi richiedere più di 4000 ore negli ultimi 12 mesi io dopo un po' che il canale è attivo e capisco qual è il video migliore e che il video fatto bene promuoverei quello no non è una cattiva idea non è una cattiva idea non importa youtube non ha questa cosa ok come si crea il link al canale come si crea il link al canale da qui come te l'ho mostrato prima guarda te lo do in chat togli Giorgio Tave e metti il tuo nick si giusto il video promo lo metterei per i nuovi iscritti perché infatti io Roberto per gli iscritti ho fatto come si controllano le notifiche vai fai un trailer sì tre minuti sono anche tanti commenti negativi io a volte li metto in rilievo dopo che gli ho risposto assolutamente dipende dal commento io molte volte li metto in rilievo perché insomma se trovi una risposta buona puoi sicuramente farlo se tu trovi una risposta buona io molte volte li metto in rilievo a volte sono critiche che hanno senso vabbè no se è proprio un insulto io non sto neanche a perdere tempo lo puoi cancellare se è un insulto se è una critica sai rispondere perché no dipende grande ok e quanti commenti avete fatto le notazioni servono per organizzare le schede sì le schede le notazioni non usatele perché non funzionano sul mobile è roba vecchia ottimo guido sono contento sono contentissimo io voglio farvi più lezioni voglio farvi poi una una live con tutti noi mostrarci tutti in faccia parlare collaborare perché è importante eh questo questo non lo so sai non lo so 10.000 le stories in tanti dicono 10.000 eh sì anch'io ho questa sensazione però non ne sono sicuro sicuro secondo me è buono diluito nel tempo dicevo magari dicendolo nel video ma sì le view calano sempre comunque non ti preoccupare è una questione normale grazie turbo 1.000 iscritti per il post math ha fatto ha fatto per anni video senza faccia non ti dico quando si è mostrato nel primo video in faccia che è successo il putiferio è un professore di matematica giovanissimo eh sì non importa la puoi riguardare Antonello purtroppo no non si può sapere magari magari non si può sapere ok ottimo quest'altro tool è ottimo io con google la sto prendendo me con 20 euro di budget beh se lo sai usare puoi ottenere puoi puoi fare se sono iscritti a tema sicuramente è interessante ok 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 alcuni eh sì sono passati perché ultimamente su youtube ci sono alcuni temi che stanno andando fortissimo e quindi eh se l'hai beccato sei stato fortunato e sei aumentato io sono contentissimo di che hai riuscito a beccare il momento perché alcuni proprio se lo meritavano grande grazie grazie in cappoloma grazie mille ok dov'è attivati attivati sì sono contento sono contento vedete sono molto molto contento due canali diversi sai che questa cosa io sono combattuto non lo so non lo so non ho una risposta dipende non ho una risposta secca certo che se sul leng sei forte anche nel parlato e fai il parlato forse sì forse sì quanti canali si possono aprire con un account non me lo ricordo aspetta c'è nello switcher no? c'è questa informazione c'è nello switcher o no? mo ti dico aspetta un attimo youtube.com vi metto il link non c'è crea un nuovo canale vi metto il link dello switcher per chi non lo conoscesse non lo so allora con Sebastiano con il codice del canale c'è un ogni canale ha un codice no? quella variabile è alfanumerica vale uguale se non riesci aprimi una descrizione sul forum che ti aiuto ti trovo un altro modo per farlo ciao Anna grazie metti metti il letto Edoardo sì sì è una super infatti sono molto molto contento avete fatto delle domande incredibilmente interessanti eh purtroppo no questa cosa no allora dipende se hai un pubblico che segue tante premiere io l'ho provato mi piace è bella ma secondo me come risultati non è così vincente per quello che ho fatto io magari ho sbagliato premiere magari ho sbagliato premiere però sì alcuni la usano e la usano molto bene questo dicevo con l'advertising secondo me con l'advertising e in tutti i video a tema dirlo all'inizio del video e metterlo nelle schede Giovanni vi ho messo il budget perché è intervenuto se Stefano Salvadori mi ha chiesto di metterlo può essere interessante se ci sono tanti di voi che hanno un budget fare una lezione su come gestirlo se hai tanti argomenti Pasquale nello stesso canale sì ti conviene se hai tanti argomenti e vuoi prendere un'altra nicchia assolutamente sì ok dove siamo sono contento no con quale vuoi con quale vuoi non importa sul forum è importante che tu metti il canale che vuoi curare tanto poi tutte le cose che imparerete saranno parte della vostra conoscenza quindi le potrai applicare dove vuoi io ne ho più di 7 io ne ho 3 ok perfetto potrebbe essere dipende dipende molto da cosa scrivete negli appunti ok sì questo mettimelo sul forum se non riesci a farlo che ti aiuto secondo me in nessun modo secondo me le interazioni negative sono indifferenti per per l'andamento del canale e del video io questa cosa non lo conosco io non lo conosco mi dispiace qualcuno visto che l'ha detto non l'ho mai fatto perché chi l'ha fatto non apre un'escussione sulla sul forum e spiega di questa cosa io non così può essere può essere utile a tanti ciao Mauro allora se io andassi da produttore bella questa questa è bella sì assolutamente sì dai la seconda lezione vediamo su cosa la facciamo la premiere è un tipo di video che è praticamente è una live simulata tu in sostanza metti una premiere carichi già il video e e dici lo guardiamo tutti insieme tra due settimane alle ore 10 e youtube ti crea tutta la cosa le persone si possono segnare ricevono la notifica parte un counter e si guarda come se fosse una live è bello a me piace però i risultati dipendono dai video dipende dal da che cosa eh qua dipende dal prodotto sai Daniele dipende dal prodotto video che hai creato non ti saprei rispondere per questo vi ho messo la domanda budget perché per esempio in search on consulting lavora Gabriele Benedetti che ha fatto già un'intervista qua che potete andare a beccare sul canale di Fast Forward e magari facciamo una lezione con lui su queste su queste robe poi vediamo sì siete tutti in tempo per iscrivervi sul forum anzi andate a farlo mettete guardate gli altri cosa hanno fatto leggete in descrizione la vostra leggete la vostra cosa cioè ci sono persone che sono iscritte già persone che stanno aggiornando con tutti gli appunti bellissima questa cosa quindi sì uno lo può fare anche in differita ok sì anch'io però Michele io vedo gente che lo usa quindi magari chi ha un pubblico elevato grande 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 ottiene ottimi risultati oppure boh è funzionato vedi è stato divertente sì è differente è differente ed è divertente farlo io l'ho fatto mi sono divertito però questi dici con StreamYard è un ho fatto un tutorial su FastForward su sta cosa ok più canali non importa l'account sai l'importante no no l'importante è che siano canali separati ciao sì ci si può scrivere certo no secondo me secondo me no ho questa questa impressione però non si può testare è intestabile questa cosa quindi non lo so potrebbe essere interessante potrebbe essere interessante grazie a voi yes ve lo mostro ve lo mostro perché è arrivato ora guardate sul forum no quando voi aspettate un attimo sì c'è a scuola di che è una sezione che trovate in alto c'è la classe youtube vi leggete come partecipare perché c'è un format c'è un format ok e potete farlo se è a tema dipende se i video sono validi se i video sono validi va bene se no apri un altro oppure metti i link i video in privato e continua ok grazie 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 a tanti tanti tantissimi sì url personalizzato dai 100 iscritti in su ma quel link là lo puoi usare anche senza l'url personalizzato le vedi Franco dice che le prime funzionano dipende no mai mai visto mai visto mai visto eccolo qua sì ecco grazie che non me lo ricordavo ha fatto questo test Roberto non è successo nulla ha detto proprio di mettere non mi piace non è successo nulla grazie che non me lo ricordavo proprio ok ciao Gabriele che è quello che stavo parlando quello che stavo parlando prima sì se negli appunti nelle cose poi è richiesto sì lo faremo magari con una persona specifica però e io non sono preparato con Gabriele e se becco no perché questo ha comprato lo possono possono spingerlo con l'advertising sicuro se becchi il tema a volte succede o se sei in collaborazione con altri youtuber e sei in un network che ti spingono può succedere se in un video facessi uno screencast di una navigazione di siti di altri video pubblici io ho visto video fa il cerbero podcast fa una cosa del genere non lo so non lo so non sono preparato su sta cosa credo di no se crei un perché tu crei un altro tipo di contenuto però non lo so non sono sicuro no non ho preparato un sondaggio vi leggerò ad ora vi leggerò nel forum e poi forse vi creo un sondaggio io l'ho attivata non cambia niente per le visualizzazioni per ora quello che ho fatto fa tutti i test non cambia niente però può essere interessante non lo so Pasquale però la qualità audio dipende dal tipo di target io non ho un per esempio non ho un audio fantastico c'è uno youtuber che hanno un audio fantastico secondo me fa la differenza l'audio è importantissimo con la scheda si con la scheda con la scheda si bene abbiamo quasi concluso ho fatto un paio di video su sta cosa io penso che sia necessaria magari è stata gestita male ma è necessaria impareremo come come si fa questa cosa sicuramente eh questa cosa si può essere io purtroppo non sono preparato mi piacerebbe fare una una live con 3-4 avvocati non lo so Giovanni io ho fatto delle prove però io credo che le persone che sono in un ambiente sociale vogliono rimanere in quell'ambiente sociale quindi vedi grande DJ Robbs vedi che vedi raga io condivido con te se lo sapessi fare guarda si molti dicono che l'audio è più importante del video ma io concordo ma non ho test concordo perché è un'altra cosa cioè il video ormai siamo abituati a tutto l'audio non ci pensiamo ma secondo me è veramente fondamentale bene compiti il forum è facile da usare basta che inizi inizia Stefano non ti preoccupare poi ti guido non ti preoccupare buonanotte buonanotte eh sì è il tuo campo come dicevi secondo me vedi per esempio se trovi qualcuno che ti aiuta su youtube e tu lo aiuti nella parte audio potrebbe essere una buona collaborazione no? perché no? io non lo conosco io sai che non lo conosco? ok ah sì sì eh sì sì bisogna stare attenti io questa parte purtroppo ok ok ande Walter Walter dice io sono non vedente i miei video non sono impeccabili l'audio è importante e lo curo assolutamente sono un bel po' di non vedenti che seguono fast forward c'è anche chissà se Filippo è collegato Filippo Tenaglia sì ho visto anche che tra l'altro partecipate anche al forum GT c'è stata una discussione bellissima di 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 due o tre persone non vedenti all'interno che cercavano di di bello veramente bello sono molto contento buonanotte buonanotte ragazzi stiamo per chiudere sto rispondendo solo alle ultime domande ottimo sì se volete aiutarlo DJ Robsk sul forum che scrive un sacco guarda Walter secondo me ce la fai a iscriverti Filippo si è iscritto Filippo Tenaglia ci sono scritti ne ho visti altri che si sono iscritti sì secondo me ce la fai prova se hai problemi mi puoi contattare mi puoi contattare ti do una mano la mia mail è giorgio.taverniti chiocciola search on punto it se hai bisogno scrivimi grazie a tutti ragazzi dai ci aggiorniamo sul forum nei prossimi giorni mi raccomando mettete gli appunti io dopo passo e vi seguo grazie 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 alla prossima lezione e mi raccomando mettete in pratica grazie a tutti grazie a tutti